Il Napoli, il Napoli, il Napoli Eh ragazzi, ragazzi, ragazzi Benvenuti a tutti in questo nuovo video Il Napoli vince ancora Il Napoli sa di scudetto addirittura Comunque Il Napoli continua a vincere E tutti già dicono scudetto Alcuni tiposi napoletani dicono scudetto Io dico Ragazzi, calma 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 Non perché io Dico No, non lo vincerete Perché secondo me A mio modesto parere Secondo me siete la squadra Più costante Da quello che ho visto fino adesso È vero È vero che non avete affrontato ancora squadre Come Milan, Inter Avete solo affrontato la Juve E onestamente ho visto una squadra Molto molto ostica Ostica Contro la Juventus Però, però Calma Date calmi C'è da dire semplicemente una cosa Io dico che Il Napoli con questa cosa Che non disputa Le partite di Coppa Ok Che non ha tutte queste Secondo me Secondo me Sì Sì Potrebbe Potrebbe Ma tutto sta nella testa Tutto sta nella testa Di giocatori Conte lo conosciamo Conte lo conosciamo Quando si trova là sopra È finita Non ce n'è per nessuno Però 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 È tutto da giocare Io preferisco Guardate Io preferisco vedere Festeggiare lo Scudetto 150.000 volte Meglio il Napoli Che vedere sempre Quei patteggiati di merda E quei bilanisti esaltati Questa è la realtà Questa è la realtà No Perché mi starebbe ancora Mi starebbe qua 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 Veramente Vedere soprattutto Quei bilanisti esaltati Vabbè che confonseca Io dico È tutto un fuoco di paglia Quello che stanno vivendo adesso Come la Juventus Secondo me Non vincerà un cazzo Quest'anno Sì Va bene Avete fatto Avete un bel gioco Diciamo Giochicchiate anche Abbastanza bene Alcune situazioni Alcune partite Ma Come si disse Una rondine Non può primavera Porca troia Eh ragazzi Comunque Complimenti Al Napoli Per la vetta Della classifica Complimenti Per la vittoria Di ieri Lukaku Si diceva Che era un giocatore Finito Certo Come no Ieri ha giocato Onestamente A vederlo Ha giocato Una grande partita Ha giocato Veramente Una grande Una grandissima partita Ha fatto anche Un bel assist Dillo stronzo Sì signore Perché io non dimentico Quello che ha fatto Per me rimane stronzo Ma nonostante tutto Però Ieri ha fatto Una gran partita E Conte Lo sta rigenerando Comunque Se il video Vi è piaciuto Ok Lasciate un like E ricordatevi Di iscrivervi Al canale Un saluto Dal Joker Ha giocato Ha giocato